Ste? Mi sa che mi piace un ragazzino. Ma dai? Ma quale ragazzino? Ragazzino? Un ragazzo. Uno che si è appena iscritto in palestra. Stefano. E chi è questo? Stefano Alfaillette. No. No, Ste, è un bambino, dai, no. No, dai, scusa, 18 anni li ha tutti. Sì. Hai visto quei tre peli che c'ha sul mento? Ecco, quando quelli diventeranno barba, io sarò già nella fascia pensionabile. Grazie per l'incoraggiamento. Non posso non dire niente, io. Stefano è un ragazzo molto carino. E poi chi se ne frega dell'età, scusami, chi se ne frega? C'è un sacco di gente che non dimostra l'età che ha. Ecco, per esempio... Gianni Morandi. Gianni Morandi? Ma ti rendi conto che hai esempio? A parte che Stefano non li dimostra l'IA, ma poi... Ok, mi ammazzo. Poi magari scopro che a 30 anni mi riportate in vita voi, eh. Comunque potrebbe essere un'idea. Se ti piace un bambino così, hai dei problemi. Non so, nell'infanzia è forse dei traumi. Quanto sei meschina. Tu vuol dire meschina? Che c'entra meschina adesso, cioè? Tu sei meschina. Oh, oh, oh! Basta! C'ho un'idea. Andiamo? Dai! Dai, c'ho un'idea, una volta. C'ho un'idea, vai, andiamo. Se Carlo mi becca, sono licenziata. Cercate di non fare rumore, eh. Sì, Ila, sì. Non si vede un cazzo qua dentro. Eh! Oddio. Una fitta. Mi sa che frappè non provare a vomitarlo qua dentro. Cecilia, la tua intolerenza alimentare sta diventando rogiosa. Vabbè, allora sto bene. Ecco lo schedario. Aspetta. Che cosa ci giochiamo? No, eh. Rossetto long lasting viola melanzana. A prova di pompino. Oh, giuro, non spava mai. Ci ha messo una vita a trovarlo. Reggiseno push-up ad olio. Due tagli in più. Capace di confondere anche l'uomo più smaliziato. Finto per sindombeliche in Argentano allergico. Oh, c'ho solo questo, eh. Vabbè, adesso l'età. Per me 17. 18. 21? Sì. Eccolo. C'ha 15 anni.